un altro fuori dio c'è provato madonna vai giù rally point distrutto proseguiamo a liberare l'aria dall'emico ai stein con le spalle non sono accorti di nulla molto bene direi mi pare che siamo abbiamo liberato l'aria credo più o meno ottimo mamma mia no occhio occhio via di qua non si passa anche se è strappino di nemici come mi ha beccato non lo sa neanche lui cioè buttarsi come animali questo è il segreto buttarsi come animali è una mappa diciamo maledetta sotto certi aspetti ve l'ho fatta una bruttissima fine comunque ci tengo a precisarlo eh amico no c'è un sfry là dietro all'angolo l'ho ferito e basta è dura dura non bisogna praticamente anticipare per nulla i proiettili di sto gioco già ne vedo uno laggiù quello non so se è un cadavere a questo punto penso di sì ma l'altro quello non è un cadavere sicuro o meglio lo è diventato che è ben diverso l'ho sfiorato praticamente da quel lato vedo che abbiamo ancora copertura quindi ottimo va bene così colpo in testa assist va bene di qua passano ciao bello preso no mannaccia 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 la kill ci ha mostrato una cosa oltre al fatto che ci ha fatto prendere il cecchino ci ha mostrato una cosa è pieno di nemici da quel lato giusto tu steve uno madonna mia due di fuori dai alza la testa se hai coraggio il tuo amico è morto lo vuoi seguire anche tu nell'oltre tomba non vuoi vivere per sempre no tu no tu non vivrai per sempre mamma mia mamma mia l'ho cercato un po' di volte non l'avrei dovuto preso ucciso il lego no io adoro il lego sono nel posto più stupido della terra eppure sta funzionando per qualche motivo oscuro morto non è morto non si capisce dove vai da dove passi deciditi so che sai che sono qui da qualche parte ma non sai neanche dove eh non sai dove sono e ora sei confuso e sei anche morto ah mi ha visto ok da qui dovremmo avere una buona visuale colpi distanti ma precisi non avanzerai mai non avanzerai mai guardiamo il fieto copertura uh fredrish chi c'è lì al mio vecchio cespuglio ho visto una serpe azzurra si sei salvato ci ho risparmiato io in realtà ricarica subito da qui possiamo bloccare mezza avanzata nemica vuole far essere soltanto una ferita quello poi il gioco me lo spiega ovviamente nel gargarozzo là purtroppo non vedo granché ma vedo qualcosa difficile beccarli in corsa da questa distanza però concentriamoci secondo me da questa parte per ora ognuno in su è inutile sprecare proiettili colpi difficili da azzeccare c'è il tizio con l'alpino e il binocolo che sta spottando il mondo un ottimo lavoro così dovrebbe giocare la gente uh lego ancora una volta vedi questo grazie all'alpino con il binocolo lo sapevo che era lì e abbiamo fatto la kill qua stanno avanzando ci provano i problemi li vediamo subito grazie all'alpino spottatore dal cingio a caporetto dal monte cingio a monte colovrat già in partita in corso quindi non stiamo proprio all'inizio le stiamo già prendendo però come sempre questo caporetto gli italiani le prendono sempre però quasi bisogna per forza ripetere la storia ogni dannata volta ah l'hanno ucciso un secondo prima di me c'è preso uno finalmente preso un altro sul fianco destro stiamo morendo malamente in tanti stai buono dai veloce la cobertura la stiamo fornendo un punto non scappi nella trincea niente più gas dovrebbe aiutare la questione ma su A non va nessuno dove sono tutti cioè non vedo nessuno eppure appunto lo stanno conquistando se c'è qualcuno qua vicino a che parte un altro da dietro che fugge preso un altro preso è morto visto il sangue mitragliere ha coppato preso ah si è spostato mi sono lasciato prendere da A che c'era tutta l'azione io ho un po' deboluccio però sono morto meglio meglio fatta il cannone quello che volete andiamo su B vediamo di difendere è un bastardo là dietro come fa a essere come fa a non averlo ucciso pieno di tedeschi qua sotto mamma mia è un macello sono sono ovunque è un casino a questo punto è un casino a questo punto lo conquisteranno però vabbè cerchiamo di fargli perdere tempo preso purtroppo ce l'avamo pure però non siamo riusciti a fare granché bravo con le pesate le spalle sono ovunque fino all'ultimo uomo dai buono devo ricaricare porca miseria forza 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 non facciamo entrare dacca questo è il punto di infiltrazione principale a quanto pare che in tanti li abbiamo fatti fuori qua avevano perso 15 ticket sono qui nell'ultimo secondo guarda preso 16 ticket non sto facendo molto a cecchino ma con la pistola fortunatamente siamo versati in questa classe c'è uno laggiù occhio 11 ticket dai teniamo il villaggio forza il cadavere ha bloccato i proiettili ma non ci credo no i proiettili forza un ticket sono dentro non so se si va a supplementare in questo modo supplementari dannatissimi non dobbiamo c'è del terreno ma stai buone ho avuto la tua occasione non ce l'avrai due volte sono ovunque qui nei paraggi sono ovunque madonna sono un po' tutto film sono sto bloccando ottimo bravi che cazzo è madonna mia uh baby la kill finale col botto poi ggggg qua nel villaggio quando succede questo è molto bello molto più interessante qui che il punto b in questa fase ggggg l'avrai Grazie a tutti.